Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, Fabio Paparelli, in prima commissione ha illustrato la situazione attuale rispetto all'area ex Merloni e sul rilancio della fascia peninica. La prima commissione presieduta da Andrea Smacchi ha ascoltato l'assessore Fabio Paparelli per un'informativa sull'area ex Merloni e sulle prospettive e gli interventi per il rilancio della fascia peninica. L'assessore ha spiegato che tutti gli interventi di competenza della Regione sono stati messi in campo sia per le politiche attive del lavoro, con 77 lavoratori reintrodotti nel mercato del lavoro, sia per i programmi di investimenti in favore delle piccole e medie imprese, che prevedono 3 milioni di euro per 15 progetti finanziati. Per quanto riguarda la competenza nazionale, è conclusa l'istruttoria dei quattro grandi progetti di rilancio industriale ammessi con un investimento di 13 milioni di euro. A questi andranno aggiunti ulteriori 9 milioni finalizzati alla valorizzazione degli asset produttivi del perimetro umbro marchigiano dell'Antonio Merloni. A breve, ha assicurato Paparelli, dovrebbero cominciare gli investimenti e quindi le assunzioni previste. L'unica vicenda non ancora giunta a conclusione, ha ricordato Paparelli, e la trattativa tra JPE Industries e le banche per la concessione di un finanziamento di 20 milioni di euro per la realizzazione degli investimenti previsti per la produzione di elettrodomestici di alta gamma relativamente agli asset produttivi di Nocera, Umbra e Gaifana. Su questo, ha assicurato Paparelli, la regione attuerà una costante azione di monitoraggio. Sollecitato infine dal presidente Smachi sulla difficile situazione dell'area dal punto di vista occupazionale, Paparelli ha detto che su un migliaio di dipendenti ex merloni della parte Umbra, 350 sono stati riassunti da JMP. Dei restanti 610 lavoratori, 565 hanno partecipato all'azione della regione sulle politiche attive per il lavoro e 65 sono stati riassunti da altre imprese, a cui vanno aggiunti 12 con la procedura per gli over 30. Paparelli ha comunque definito coerente un'iniziativa politica per sollecitare l'allungamento di un anno della Cassa Integrazione. In seconda commissione, l'assessore regionale Chianella ha risposto ad un'interrogazione dei consiglieri del Partito Democratico, Giacomo Leonelli e Carla Casciari, sul trasporto pubblico locale. L'assessore regionale ai trasporti, Giuseppe Chianella, ha partecipato ai lavori della seconda commissione per rispondere all'interrogazione con cui i consiglieri regionali, Carla Casciari e Giacomo Leonelli, del Partito Democratico, chiedevano di chiarire i criteri di riparto delle risorse destinate al trasporto pubblico locale e regionale, assegnate ai comuni Umbri e se questi verranno rivisti alla luce del quadro territoriale in evoluzione della Costituzione dell'Agenzia Unica per la Mobilità. Chianella ha spiegato ai commissari che l'obiettivo della Giunta è di arrivare il prima possibile al piano di bacino unico regionale con i nuovi criteri di ripartizione che aggiornino quelli stabiliti nel 2005 in occasione delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma. Per intervenire sarà però necessario, ha detto Chianella, un nuovo piano di bacino unico regionale, la cui approvazione è prevista entro la fine del 2017. L'assessore ha evidenziato che sarà in seguito possibile in dire una gara unica regionale per razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili e rivedere anche la ripartizione dei fondi per il trasporto pubblico tra le diverse amministrazioni comunali dell'Umbria. Sempre a proposito di trasporto pubblico locale è stato ascoltato il direttore del servizio ferroviario di Umbria TPL e Mobilità. La chiusura di alcune tratte, i bassi limiti di velocità in altre, gli investimenti per la manutenzione dei binari della ferrovia regionale sono stati al centro dell'audizione convocata dalla seconda commissione con il direttore del servizio ferroviario di Umbria TPL e Mobilità SPA, Mauro Fagioli. Durante la seduta, richiesta dai consiglieri liberati e carbonari del Movimento 5 Stelle e dal gruppo consigliare della Lega Nord, è emerso che la manutenzione della linea ferroviaria regionale è fortemente limitata dalla mancanza di stanziamenti per questo capitolo, nonostante i fondi che la regione trasferisce alla società. La chiusura della tratta ex FCU Perugia-Ponte San Giovanni-Sant'Anna, i bassi limiti di velocità imposti ai convogli e la chiusura della linea tra città di Castello e San Sepolcro sarebbero legati alla mancanza di manutenzione e al conseguente stato di degrado dell'infrastruttura. Fagioli ha inoltre spiegato che i 50 milioni di euro che il Governo nazionale destinerà l'infrastruttura serviranno per la manutenzione di una parte delle linee, mentre per un intervento complessivo servirebbero ulteriori 100 milioni. La Commissione Sanità e Servizi Sociali ha ascoltato in audizione medici e rappresentanti di associazioni che seguono i bambini con disturbo da deficit di attenzione e iperattività. In Umbria sono lunghe le liste di attesa di bambini con disturbo da deficit di attenzione e iperattività, sono più di 2000, sui quali bisogna intervenire quanto prima, poiché il disturbo peggiora con la crescita, causa problemi di difficile soluzione a scuola e devasta anche economicamente le famiglie, senza contare che per questi giovani pazienti l'approdo conclusivo è in comunità terapeutica. Non certo la migliore soluzione, nemmeno la più economica. Sono solo alcuni aspetti delle problematiche indotte dalla sindrome ADHD, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, di cui hanno preso cognizione i membri della terza Commissione Consiliare presieduta da Tio Solinas nel corso dell'audizione con medici e rappresentanti delle associazioni di genitori coinvolti. Si tratta di un lavoro che richiede molte competenze, ha spiegato la responsabile dell'unico centro in Umbria, quello di Terni, Mariella Allegretti, e necessita di un lavoro fra diversi specialisti da effettuare tramite una rete adeguata alla presa in carico avviene dopo una sofferenza acuta del nucleo familiare che apre la strada ad ansia e depressione, oppure ci chiamano le scuole per segnalare disturbi dirompenti di bambini che crescendo diventano aggressivi. C'è un lavoro da fare a monte, con una diagnosi precoce e una somministrazione di farmaci da fare con grande attenzione. Molti disturbi di personalità borderline, ha detto la dottoressa, hanno una storia di ADHD non diagnosticata. Stiamo andando verso una situazione psicosociale molto complicata, che richiederà tante risorse se non si riesce a intervenire prima. I rappresentanti dell'associazione hanno esposto ai consiglieri le grandi difficoltà, sia psicologiche che economiche, patite dalle famiglie. Curare un bambino con questa sindrome può comportare costi pari a uno stipendio. Molte di queste famiglie diventano monoreddito per scelta, in quanto uno dei coniugi segue il figlio a tempo pieno, e questi genitori sono al rischio di separazione o divorzio in misura tre volte superiore al normale. Il servizio pubblico deve fare di più, hanno detto, oppure si convenzionino strutture private, per non dire poi del problema del compimento dei 18 anni, quando i ragazzi di fatto escono dal sistema di assistenza e sono lasciati soli. La Commissione ha raccolto le problematiche esposte, assicurato di tenerne conto in vista del nuovo piano sanitario. Il consigliere Giacomo Leonelli, che sul tema ha presentato un'interrogazione Question Time, ha proposto di concertare una legge specifica, raccogliendo consenso anche dall'opposizione. Il capogruppo della Lega, Emanuele Fiorini, anche egli presentatore di un'interrogazione in aula, ha assicurato il sostegno all'iniziativa legislativa. Le priorità già individuate saranno il potenziamento del centro di Terni, la riduzione delle liste di attese, la definizione di un rapporto tra strutture pubbliche e private sul tema, problemi che vanno affrontati sia per quanto attiene l'età infantile che quella adulta. Anche per questa edizione è tutto. Mi ricordo TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda su tutte le emittenti televisive della Regione, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci. Grazie per la visione!